Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Una comunità presente e attiva di fronte al bisogno sociale. Auser Bormio si dota di un automezzo attrezzato per trasporto carrozzine, benedetto davanti alla sede di Via Nesini da Don Fabio Fornera, capace di catturare l'attenzione dei cittadini verso quel gesto che tanto significa. Il nostro progetto consiste nel poter dare a favore degli enti, delle associazioni, dei territori, degli automezzi attrezzati da dibiti al trasporto delle persone anche diversamente abili con la formula del comodato d'uso gratuito per i prossimi anni. Grazie agli sponsor, anche nell'Alta Valtellina da oggi si potrà avere a disposizione questo strumento importantissimo che servirà ai volontari proprio per andare a potenziare e migliorare quelli che sono i servizi che danno e che fanno quotidianamente a favore della cittadinanza. L'impegno di Hauser inizia il 1 aprile 2009, un'auto d'insieme per vincere, per servizio di radioterapia, semogo, sondrio e viceversa, da lunedì a giovedì tutto l'anno. Nel 2017 si aggiunge un cubo Fiat che porta ovunque, chi non diversamente abile, a necessità mediche o scolastiche. Ormai c'era la necessità, perché le domande erano sempre di più, di un trasporto particolare con le carrozzine per i disabili e abbiamo fatto la domanda assieme al GMS, che è questa associazione che io li ho conosciuti a Morbegno, dove ne hanno consegnati due. Ho fatto loro la proposta e sono venuti in Alta Valle, sono passati dagli sponsor in Alta Valle dicendo il progetto che ci siamo dati di dotare anche l'Alta Valle di un mezzo come Hauser per il trasporto dei disabili. L'assessore Emilia Pedranzini ringrazia i volontari che ogni giorno mettono gratuitamente il tempo per gli altri. Direi il risultato raggiunto essenzialmente per il merito della comunità intera, perché poi gli sponsor che hanno permesso questa operazione in realtà interpretano tutta la comunità di Borbegno e dell'Alta Valle che ci appunto ci dà questa ulteriore possibilità di poter continuare nei nostri servizi con maggiore qualità. La passione quella ce la mettiamo sempre e comunque, ma questo mezzo ci permette veramente di dare una mano e di dare un aiuto alle persone che sono veramente in grossa difficoltà. Un progetto condiviso dalla comunità montana Alta Valtellina. Sfilano 32 autisti volontari, la maggior parte coi capelli bianchi, dice Binda. Siamo aperti ad accogliere nuove leve, il lavoro è in continuo aumento. Dobbiamo ringraziare davvero i nostri concittadini, le aziende che hanno creduto in questo servizio. Un servizio che è veramente utile per tutti i cittadini dell'Alta Valtellina da Sondalo a Livigno. L'Associazione Rivolontari